Salve, io sono Carlo Pelicciari, sono un docente di questo corso in cui siete interessati. Sono un esperto di personale, ho lavorato per grandi aziende multinazionali per tantissimi anni e in questo master vi parlerò molto del rapporto uomo-organizzazione. Due cose fondamentali andremo a toccare, uno è la nuova figura del Chief Executive Officer che in azienda si sta affermando come colui che sostiene il management nella ricerca di soluzioni che siano razionali e compatibili con la loro mission e la loro vision e poi parleremo molto del rapporto uomo-organizzazione anche negli aspetti etici di questo rapporto. Credo che per chi voglia affrontare il mondo del lavoro con questa precisizzazione questo master sia fondamentale e dia tutti gli elementi necessari per avviarsi con successo.